Tra il 26 di febbraio e la prima settimana di marzo, Palazzo Chigi è stata messa in sicurezza, anzi è stato allestito quello che potremmo definire un vero e proprio ospedale da campo, sono arrivate più di 40.000 mascherine chirurgiche perché ne hanno fatto approvvigionamento prima di tutti gli altri, sono arrivate mascherine FFP3 che ha indossato anche Giuseppe Conte durante le riunioni del Cipe o del Consiglio dei Ministri, sono arrivati guanti in nitrile per proteggere le mani, tanniche di gel, di amuchina per disinfettarsele, sono arrivate addirittura bombole d'ossigeno, camici chirurgici per proteggere dai visitatori chi li riceveva. Valeva ovviamente per Conte, valeva per tutti i suoi collaboratori e per i pochi che sono rimasti al lavoro nella presidenza del Consiglio perché molto è stato fatto in smart working, quindi a Palazzo ormai ci va quasi più nessuno in questo mese di crisi. E' arrivato addirittura, è stato comprato un frigo nuovo dove tenere 9.000 euro di medicinali, vaccinali, di antivirali, antinfiammatori e persino di vaccini. Insomma la scialuppa di salvataggio è stata calata per mettere in sicurezza Conte e tutti i suoi collaboratori. Ha fatto bene, ha fatto male, ha fatto ovviamente bene, bisogna mettere in sicurezza tutti. Il problema è che però loro ci hanno pensato. Il 26 di febbraio sono passate persino due settimane invece da quando è venuta l'idea di mettere in sicurezza tutti gli altri, cioè tutti i medici che erano in prima linea senza mascherine, infermieri, negli ospedali, nelle residenze sanitarie per anziani, perché solo il 6 marzo, quando lui ormai era in sicurezza, il presidente del Consiglio Conte ha chiesto alla Consip di fare un bando per l'acquisto di quelle cose che non erano negli arsenali della sanità, perché le forniture dovevano passare tutte dalla Consip che è controllata direttamente dal governo attraverso il Ministero del Tesoro. E in effetti Conte ha chiesto il 6 marzo alla Consip di fare una gara che è stata indetta il 9 marzo, ma le prime cose ovviamente sono arrivate, i primi approvvigionamenti sono arrivate a fine mese. Ma questo tema che Conte si è messo in sicurezza, prima lui e i suoi collaboratori, e poi ha pensato tutti gli italiani, a me ricorda una vicenda che abbiamo vissuto, una vicenda tragica che abbiamo vissuto. C'è stato un altro che prima ha fatto calare la scialuppa di salvataggio per mettersi al sicuro lui con i suoi collaboratori e poi una volta salvo ha cercato di coordinare il salvataggio degli altri, ma non c'erano abbastanza scialuppe. Quell'altro si chiama Capitano Francesco Schettino.